Con un provvedimento a sorpresa che potrebbe avere conseguenze politiche e da cui era ancora di più gli attriti tra la maggioranza e la minoranza del Consiglio Comunale Battipagliese, il sindaco di Battipaglia Cecilia Francese ha conferito la delega a titolo gratuito di supporto al procedimento di formazione del nuovo PUC all'architetto Nicola Vitolo, in passato dirigente all'urbanistica della provincia, che è nel direttivo del PD e che nel 2016 avrebbe potuto sfidare proprio Cecilia Francese alle elezioni amministrative per conquistare la fascia di sindaco. L'architetto Vitolo è in pensione e non ha altri incarichi conferiti da enti e quindi quello che sta per ricoprire al comune di Battipaglia è l'unico, anche se continua la sua attività professionale. Il nuovo incarico dell'architetto Vitolo è stato voluto dal sindaco e dall'assessore al commercio Giglio Mirra, che potrebbe avere nei prossimi giorni la delega all'urbanistica, casella vuota dallo scorso aprile. Intanto la decisione della francese non sarebbe stata ben accettata dalla minoranza del Consesso Civico e soprattutto dai consiglieri comunali del PD. Nel frattempo l'architetto Vitolo dovrebbe riuscire a rattoppare il PUC, lo strumento urbanistico che sembra faccia acqua da tutte le parti e non è per nulla gradito ai cittadini e agli imprenditori. Proprio Vitolo durante la presentazione del PUC, avvenuta nelle scorse settimane a Palazzo di Città, intervenne chiedendo ai tecnici che lo avevano redatto importanti aggiustamenti. Ora aspetterà Vitolo supportare l'ingegnere Carmine Salerno, l'ufficio di piano e l'intera giunta nella delicata fase dell'adozione del PUC, che ha già scontentato parecchi costruttori battipagliesi che si sono rivolti al TAR. Grazie a tutti.